ciao cicciuzzo ciao marcello c'è qua ciao questa senti passavo di qua siccome questo weekend c'è sintonia rimini e tu c'è ben due salette due fatto male questi due salette si volevo vedere queste cose che porterai un sabato che porterai visto che già stai lavorando a questo quello che porterai porterai questo intero si giusta buono intero si manca l'envi ancora ma ancora le sorgenti e lo sto finendo ok che c'è vabbè i book è un i book ci sarà l'envi ci sarà un invidia shield coi film trino e poi sta roba c'è qui tre finali aurea un 8 canali e due quattro canali da 10 watt immagino da 10 watt al grammo no le potenze in gioco sono molto importanti ok e poi avremo vai tutti i diffusori loro e ma ce l'hai i diffusori da farmi vedere adesso mai ne apriamo uno di là no dai esagerato no ah non ce l'hai stai impacchettando tutto praticamente si si sto impacchettando tutto perché vabbè dai tanto li vediamo lì a rimini venerdì tanto vengo a sbirciare mentre montate quattro subettini f113 avremo uno per ogni angolo della sala sala grande quindi si è una 55 o 60 metri quadri più o meno ok di video che c'hai 8 e 90 ok ma ce l'hai qua si si saletta 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 mitica saletta a 8 e 90 envy e porti questo non è questo ma è uguale a questo ok quindi i 3 metri e 50 di base in 21 e poi c'hai anche un'altra saletta abbiamo anche un'altra saletta stereofonica con il buon paolino dove porteremo le nuove paradigme che sono appena state importate da audio gamma e già con amplificazione con il mici che abbiamo qua mici 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 le paradigme arrivano domani se no te le facevo vedere e là c'è già l'amplificatore integrato ah ok lì sotto a destra eccolo qui e poi e i diffusori nuovi se adesso non mi viene in mente la sigla aspetta che la chiama paolo paolo come si chiamano le disparmine che portiamo paolo 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 non fare così founder mi sembra founder 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 vabbè paolo ci sarai tu ci sarai tu a farsi ascoltare questo sistema esatto ci farai ascoltare musica quella che volete quella che vogliamo esatto ma ci avrai anche streaming farò solo streaming ci sarai ti dal si coboz non basta non ci sia portato e poi anche i dischi già portiamo lo sento dischi sono da fare se lo vuoi portare dimmelo che lo devo imballare però giuradischi testina braccio allora se portiamo giuradischi non deve essere un giuradischi da 500 euro come quello che vediamo eh no direi lasciamo stare ci pensiamo vabbè comunque ci vediamo venerdì per l'installazione assolutamente grazie ciao ciao